Parliamo di cura dei beni comuni che si sta diffondendo in tutti i centri del Trentino, i cittadini che si prendono cura del proprio rione o del proprio paese. Una delle prime manifestazioni in Trentino è stata l'Argentario Day che interessa la collina est della città di Trento. Luca Bindi. Cognola, Martignano, Monte Vaccino, Villa Montagna e Sandonà, oltre a Tavernaro e L'Aste. 100 attività? 101 attività che abbiamo registrato. Questi luoghi e numeri della settima edizione dell'Argentario Day, Fessa del Bene Comune, dove circa 500 volontari si mettono all'opera con alcune azioni che durano tutto l'anno. Oggi nella giornata principale le cosiddette pulizie di primavera. Qualche esempio, cura dei parchi sportivi, cura dei giardini pubblici, cura di qualche struttura pubblica, per esempio imbiancatura delle sale all'interno della circoscrizione, ripristino della scalinata. Con le scuole sono state fatte varie attività. Nella circoscrizione Argentario abitano circa 10.000 persone e i volontari che si adoperano per il bene comune usufruiscono di alcuni aiuti, diciamo, tecnici. Il comune ovviamente dal suo benestare approva le varie attività e ci fornisce materiali per adempiere appunto alle varie attività, dal murale, piuttosto che alle scope ce le procura la 30. Logicamente c'è anche il momento della pausa e a volontari in quattro piazze a Cognola, Martignano, Montevacino e Villa Montagna viene offerto del buon cibo. Abbiamo pulito sotto un po' il nostro circondario e poi ci hanno detto di venire su a stare insieme, in compagnia. Tenere l'ambiente pulito intorno, è tutto qua, si chiacchiera. Tutti su quel bicchiere! Ehi!